caro amiche il tutorial di oggi è un giacchino con la lavorazione a pannello ho scelto un punto facilissimo, solo due righe da memorizzare come vedete è un punto molto facile e moderno però la rifinitura è classica come vedete è molto romantica allora potete realizzarlo in tutte le taglie come sempre perché la lavorazione a pannello ci permette di lavorarlo con semplicità anche per le principianti e poi per quanto riguarda le maniche le potete fare sia lunghe e corte ma anche più corte il filato che ho scelto è il positano e il color camoscio facile, facile da realizzare vi ricordo che sul mio blog c'è una scheda in pdf che potete scaricare e poi anche tutto l'articolo con tutti i punti di riferimento come un piccolo riassunto ma anche il punto che facilita seguire sia il tutorial e poi lo schema ora passiamo subito a vedere proprio in anteprima questo giacchino e poi tutte le informazioni utili e il tutorial vediamo da vicino il nostro giacchino come vedete è molto carino devo dire con questo punto elegante devo solo nascondere ora le codine allora ho fatto una lavorazione poi tutta intorno con questa rifinitura con lo stesso punto che si realizza semplicemente con la seconda riga del punto che andiamo a lavorare facile facile anche da memorizzare vi ricordo adesso che vi ricordo che poi nel mio blog sotto avete anche una scheda da scaricare in pdf così avete proprio tutti gli appunti allora andiamo a ricapitolare tutto quanto le misure e il tutto allora con il mio quaderno abbastanza grande vi dico qualche appunto anche di avvio perché andiamo a realizzare semplicemente il campione del punto perché è talmente facile voi lo sviluppate nella vostra misura allora per quanto riguarda la mia misura che è 100 di circonferenza sono andata a dividere per due 50 il pannello non ho messo agio come dicevo prima l'altezza ho messo il 52 ma poi poi alla fine ho deciso di fare 55 ma non 52 per cui quello poi dipende dalla vostra lunghezza per i due pannelli per i due pannelli vi do sempre le indicazioni per fare lo scollo che lo scollo è 18 di larghezza semplicemente per ogni pannello ho lasciato in sospeso tre moduli per cui nel primo vado a lavorare solo questa parte qui nel secondo vado a tagliare il filo mi riaggancio e vado a lavorare questa porzione diciamo di del pezzo davanti ovviamente la vado a lavorare per cui facilissimo non la faccio vedere neanche nel tutorial perché insomma è super facile quando andate a lavorare il pannello tagliate il filo tagliate il filo vi agganciate e lavorare questa parte invece la seconda volta non c'è bisogno perché lasciate in sospeso la parte che volete lasciare da non lavorato allora per quanto riguarda le maniche ho fatto semplicemente sui 40 centimetri sui 40 centimetri l'avvio e poi lo potete rendere lungo come preferite le maniche insomma io l'ho fatta abbastanza lunghe fino giù al gomito allora per il pannello davanti per la mia misura ho lavorato 90 catenelle più una vedete subito così prendete appunti ma potete scaricare il pdf poi invece per il davanti i pannelli davanti sono 48 di avvio più una e poi lasciate in sospeso per il primo pannello e poi lavorate la parte diciamo della spalla e per il secondo pannello stacca tagliate il filo e vi agganciare dalla parte laterale nello scalfo e andate a lavorare sempre in base poi all'altezza che voi preferite per le maniche invece ho avviato 72 catenelle più una ma voi vedete sempre per il vostro campione quanto è di avvio insomma questo poi dipende prendete il centimetro e da lì potete ricavare come volete la vostra maglia l'uncinetto 4 e mezzo il multiplo è di 6 più una facile da lavorare facilissimo il progetto e andiamo subito a vedere adesso il punto e il filato il filato scelto per questo progetto è di filati di scanto ho scelto il positano è un filato meraviglioso ci sono diversi colori sul loro sito io ho scelto il color camuscio andiamo a vedere la sua composizione ha il 70% di cotone il 25% di poliestere il 5% di fibre miste consiglio i ferri dal 3 3 e mezzo anche 4 4 e mezzo e uncinetto dal 3 al 4 e mezzo sono 50 grammi 120 metri io vado a lavorare con uncinetto 4 e mezzo adesso andiamo a vedere il giacchino smontato sono tutti i pannelli a lavorazione sono dei pannelli dove semplicemente prendere la vostra circonferenza più generosa o dei fianchi oppure del seno e poi sviluppare la taglia la mia circonferenza del seno è quella maggiore per cui vado a dividere la mia circonferenza che è di 100 per ogni pannello voglio una larghezza di 50 non vado a mettere dell'agio proprio perché diciamo il punto è abbastanza elastico non voglio un giacchino troppo largo che lo voglio mettere sopra un top sopra un vestito per cui non voglio un giacchino troppo largo lo voglio abbastanza giusto però se volete e desiderate un giacchino più ampio potete mettere una percentuale di agio in base alla vostra misura allora il mio pannello vi faccio vedere le misure è di 50 come vedete è preciso che è 50 e poi la lunghezza dovrebbe essere sui 52 se non sbaglio 55 centimetri 55 eccolo qui per cui abbiamo un pannello che è 50 di larghezza e 55 di lunghezza questo poi dipende quanto lo vogliate lungo se volete fare più rifiniture realizzato il primo pannello che poi andiamo a vedere il punto come si realizza dobbiamo andare a realizzare ovviamente lo tolgo questo sotto così si vede bene andiamo a realizzare i pannelli davanti i due pannelli perché è un giacchino io vi dico le mie misure così già le avete subito prendo l'altro qui ho anche le mani cucce ecco qui e abbiamo il nostro davanti ho fatto uno scollo per cui la lunghezza è la stessa di 55 per quanto riguarda la larghezza dello scollo è 18 e un'altezza di circa 7 cm e ho fatto vi dico proprio ho lasciato 3 1 2 e 3 conto il modulo tre moduli ho lasciato da una parte e ho lasciato tre moduli diciamo di altezza io dico i moduli in maniera che comprende la prima e la seconda riga poi ho realizzato le maniche come si realizzano le maniche vado a calcolare lo scalfo quanto lo voglio largo per cui in base a quello poi vado a sviluppare la misura andiamo a vedere la manica allora questa manica no questa che ho già fatto la rifinitura tolgo i pannelli davanti andiamo a vedere la manica allora per quanto riguarda la manica vi dico subito la mia larghezza ma potete decidere sempre come volete perché poi vi do video il multiplo video il multiplo per cui circa sono sì 39 ma anche 40 perché c'è un po per cui anche 40 centimetri 40 centimetri di lunghezza io qui ho fatto poi vi faccio vedere il bordino come lo vado a rifinire sono di 27 centimetri voi potete variare la misura variare quanto è larga la manica per cui voi misurate la vostra vi misurate la vostra misura anche tramite un giacchino se volete lo potete appoggiare sopra andare a prendere la misura e dagli sviluppate il vostro multiplo di quanti centimetri lo dovete realizzare adesso che abbiamo tutte le misure andiamo a vedere il punto come si realizza al cui faccio un campione per realizzare il punto che è super super semplice poi iniziamo ad assemblare tutti questi pezzi che abbiamo realizzato per realizzare il nostro giacchino e poi le rifiniture adesso andiamo a lavorare il punto io realizza un piccolo campione tanto vi ho dato tutti gli abbi di ogni pannello allora dopo aver via avviato le catenelle che vi occorrono più una ovviamente andiamo a lavorare ancora 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 adesso conto 1 2 3 4 5 6 queste di base quella sotto e vado a contare 1 2 3 4 5 6 entro nella sesta prendo il filo entro nella sesta e realizzo una maglia alta una catenella e una maglia alta e questo è il punto mi avvicina ancora adesso 1 2 3 conto 1 2 3 4 5 6 entro nella sesta di nuovo punto v per cui maglia alta catenella e maglia alta sullo stesso punto ancora 3 catenella 1 2 3 conto ancora 6 1 2 3 4 5 6 prendo il filo e di nuovo vado a realizzare un punto av per cui maglia alta catenella catenella e maglia alta andiamo a vedere il punto da vicino in questo modo eccolo qui come si presenta ancora 3 catenella 1 2 3 conto 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 l'ultima vado a realizzare una sola maglia alta perché siamo a fine ci abbiamo finito la nostra riga maglia alta e questo è il nostro punto ora andiamo a realizzare la seconda riga la seconda riga vado a realizzare 1 2 3 4 5 catenelle volto il lavoro entro dentro all'archetto diciamo così al nostro rettangolo entro con l'uncinetto realizzo una maglia bassa in questo modo 2 catenelle 1 2 adesso entro dentro al punto av realizza il punto av maglia alta catenella e maglia alta sullo stesso punto ecco qui proseguo con 2 catenelle entro sempre nel rettangolo maglia bassa e 2 catenelle di nuovo punto av e realizza il punto av cui maglia alta catenella e maglia alta ecco qui cambiato inquadratura così si vede meglio adesso vado a realizzare 2 catenelle ecco qui entro sempre nel punto nel rettangolo chiudo con maglia bassa e 2 catenelle di nuovo punto av maglia alta catenella e maglia alta 3 2 catenelle sempre 2 catenelle entro sempre nell'ultimo rettangolo e 2 catenelle qui dobbiamo un attimino vedere contare 1 2 3 entro nella quarta catenella e realizzo una maglia alta ecco qui e questo è il nostro punto adesso riavviamo la prima riga la prima riga dobbiamo fare invece di 5 di avvio di catenelle 6 per cui 1 2 3 4 5 e 6 volto il lavoro adesso andiamo a lavorare sul punto av eccolo qui ce l'abbiamo proprio sulla linea che dobbiamo andare a lavorare realizziamo una maglia alta catenella e maglia alta e 3 catenelle 3 catenelle il lavoro di nuovo il punto av per cui facilissimo questo punto da memorizzare super facile 3 catenelle e punto av catenella ovviamente di separazione tra una maglia alta e l'altra 3 catenelle eccolo qui e vado a chiudere contando laterale la terza 123 terza entro con uncinetto bene però ecco qui e la rizzo una maglia alta adesso ho preso la maglia alta riprendo di nuovo dalla seconda riga 5 catenelle di avvio volto il lavoro e ripetiamo da capo dobbiamo lavorare le maglie basse al centro del rettangolo con la stessa la stessa cosa con le due catenelle e vado a lavorare ecco qui vado a lavorare il punto il filo maglia alta catenella e maglia alta proseguo due catenelle e vento nel rettangolo maglia bassa 2 catenelle e punto avv col punto avv lo realizziamo dove c'è sempre il punto avv per cui non ci dobbiamo cioè in proprio impossibile sbagliare il punto semplicissimo 2 catenelle nel rettangolo vado a lavorare maglia bassa 2 catenelle ecco qua catenella e abbiamo un di nuovo il nostro punto avv 2 catenelle entro il rettangolo e 2 catenelle ecco qui entro 1 2 entro nella terza catenella e maglia alta si ripete adesso tutto da capo con 6 catenelle di avvio una volta e 6 una volta e 5 e 6 quando facciamo i rettangoli ecco qui facile facile come avete visto è super facile da realizzare proprio per questo vi ho fatto il campione perché facendo il campione in questo modo si prende il centimetro e andiamo a vedere facendo quanti modulini abbiamo fatto 1 2 3 4 ho fatto in questo modo che non è dovevo essere super super precisa ho moltiplicato e ho fatto insomma diciamo la mia circonferenza perfetta per cui facilissimo da fare adesso andiamo a vedere tutti i pannelli la cucitura e poi tutte le rifiniture allora iniziamo le nostre cuciture adesso vi faccio vedere come vado ad assemblare il mio giacchino vado a mettere dei marca punti come vedete adesso ho messo la parte dritta nell'interno e rovescio fuori come faccio a vederlo in base alle codine per cui come vedete questa è la codina del dritto e la codina del dritto e queste ovviamente devo mettere il dritto sul dritto per cui dovete riuscire un attimino a capire qual è il dritto e il rovescio fatto questo iniziamo la cucitura adesso andiamo a realizzare la cucitura sulle spalle nascondendo anche il filo dietro poi dopo lo possiamo sempre tagliare questo già si può tagliare andiamo a fissare per cui io vado a cucire tanto è facilissimo non ho bisogno del marca punti perché basta seguire comunque vedete il il disegno del del punto poi vado a attaccare la manica con i marca punti e dopo vado a cucire laterale però insomma potete anche cucire una parte di laterale poi attaccare la manica insomma potete fare come preferite ma comunque il nostro punto devo dire che ci aiuta tantissimo avere dei punti di riferimento cui vado a cucire dopo che ho cuscito vado a attaccare le maniche e dopo il laterale senza tirare troppo non dovete fare riccio insomma deve essere abbastanza abbastanza morbido in questo modo allora per cucire la manica dovete mettere i marca punti in questo modo a rovescio sempre e fate attenzione al verso il verso deve esserci la base dell'inizio che se lo mette dal contrario poi quando lo indossate avete la parte centrale della v avete al contrario per cui mi raccomando che deve essere al verso vedete del del davanti vedete deve essere uguale perché non rischiate che avete capovolto capovolto alla manica allora iniziamo a cucire allora come vedete ho cuscito tutto come vi ho detto all'inizio quando andate a cucire la manica mi raccomando il verso vedete deve corrispondere poi il verso del punto allora adesso che ho cuscito il tutto andiamo a fare una riflessione la finitura voi potete rifinire a maglia bassa potete rifinire a maglia alta questo poi in base ai vostri gusti ma io voglio rifinire un attimino come questi diciamo con il punto av voglio lavorare la seconda riga diciamo la seconda riga che mi piace tutto del punto che cosa faccio devo iniziare per forza da dietro perché non voglio vedere le congiunzioni del della riga che vado a lavorare per cui inizio da dietro proprio dal centro da dietro e vado a prendere il filo vado a realizzare il punto il punto av per cui prendo il filo e realizzo una maglia bassissima ecco qui ho agganciato ora realizzo una maglia bassa una sopra l'altra che corrisponda ad una maglia alta una catenella e poi vado al punto diciamo successivo andare a lavorare il nostro punto av eccolo qui e l'abbiamo realizzata adesso vado a lauree la seconda riga la seconda riga sarebbe quella con le due catenelle maglia bassa e 2 catenelle e punto av vedete così faccio una piccola un piccolo bordo rifinito catenella e il punto av 2 catenelle e proseguo adesso vi dico anche all'angolo cosa possiamo fare vedete qui ciò ho la cucitura ho fatto le due catenelle faccio proprio qui al centro la maglia bassa 2 catenelle e realizzo il punto av qui al centro adesso vi faccio vedere come ho pensato di andare a lavorare questa parte qui farò il punto delle due catenelle maglia bassa e qui realizzo il punto av semplicemente adesso che sono arrivata all'angolo vedete questo quello scollo no spero che si vede bene questo è lo scollo io ho proseguito sono all'angolo posso fare solo una maglia alta questo dipende da voi lo provate un attimino oppure che cosa posso fare fatte le due catenelle posso arrivare qua all'angolo e farli punto av oppure una sola maglia per renderlo ancora più morbido nella curva 2 catenelle se vedete che è troppo fate solo una maglia questo poi dipende anche dalla tensione da come volete vedete è sempre qui laterale io vado a lavorare il punto av qui al centro adesso ve lo faccio vedere bene vedete e qui laterale dove più grande dove abbiamo le catenelle vado a lavorare due catenelle entro maglia bassa e due catenelle poi lo potete interpretare come volete insomma non c'è una regola io lo sto facendo adesso insieme a voi la rifinitura e credo che questa con l'angolo vedete lo faccio vedere meglio credo che va bene in questo modo e non tiri neanche poi davanti qui credo che sia perfetto e non tiri importante che non tira il filo allora ho terminato tutto il bordo intorno tutto il bordo ma anche le maniche così poi vado a nascondere tutte le gotine come vedete l'ho fatto anche alle maniche perché da veramente una rifinitura ma anche sullo scollo per cui lavorare piano piano tutto intorno abbiamo una rifinitura anche sullo scollo facilissimo da lavorare come avete visto potete svilupparlo in tutte le misure senza nessun problema avete visto è facile da realizzare allora avete scaricato il pdf sul mio blog così avete tutti gli appunti e potete poi realizzarlo in tutte le taglie ho messo anche lo schema in maniera che potete seguirlo con tutta tranquillità facile veloce potete sostituire il filato con il fiocotone potete anche insomma scegliere un filato diverso poi in base al metraggio ovviamente cambia cambia l'avvio delle catenelle in base sempre alla taglia vi consiglio sempre di realizzare un campione ci vediamo ai prossimi tutorial con tantissime novità un baci